Ben trovati con Vita e Salute, una puntata dalle tinte estive. Stiamo registrando infatti domenica 11 giugno 2017, domenica in cui si è tenuta la terza edizione di Green Tour Day Vicenza. A tal proposito sono in compagnia della dottoressa Paola Colussi, dottoressa ben trovata, direttrice del servizio di promozione ed educazione alla salute del Dipartimento di Prevenzione dell'Ussotto Area Aberica, un'iniziativa Green Tour che appunto vuole proprio promuovere la salute, il benessere, il turismo ma anche la cultura. Intanto introduciamo questa iniziativa, un'iniziativa che ha visto dei percorsi in bicicletta, a piedi o anche via d'acqua, proprio volti alla salute. È molto importante che le persone capiscano e abbiano il concetto della malattia cronica, nel senso che noi oggi non moriamo più delle malattie acute, ma soprattutto di malattie croniche che sono tumori, malattie cardiovascolari e diabete. Queste fanno l'80% della mortalità precoce e dell'invalidità, causa di invalidità. Il bello di queste malattie è che si possono prevenire con uno stile di vita sano. I fattori di rischio di queste malattie sono fumo, alcol, scorretta nutrizione, sono un po' fattori che conosciamo. Un peso molto grande lo ha anche la sedentarietà. E quindi ecco un'iniziativa che vuole proprio far scoprire le possibilità che il nostro bellissimo territorio offre, anche proprio per mettersi in movimento, anche senza essere necessariamente degli atleti, dei campioni. Certo, è importantissimo che le persone possano trovare fuori dalla porta di casa dei percorsi a piedi o in bicicletta sicuri. Lavoriamo sia per la sicurezza sia per queste piste ciclopedonali insieme ai comuni. Fondamentale per noi è lavorare con le amministrazioni comunali, in questo caso anche con la Regione. Abbiamo trovato in questo tratto da Grisignano di Zocco a Orgiano dei comuni particolarmente sensibili e ci ha permesso di costruire questa salute per i cittadini. Perché è fondamentale che i percorsi casa-scuola, casa-lavoro avvengano a piedi. Questo momento di caldo, di estate, è un momento in cui è proprio consigliato uscire all'aria aperta, magari non nelle ore proprio più calde, ma stare un po' in mezzo alla natura. Sì, consideriamo che dai 18 anni in su dobbiamo fare 150 minuti a settimana di attività motoria. Nei bambini dai 6 anni ai 17 invece sono un'ora per 5 giorni a settimana. Trovare il tempo per farli non sempre è possibile, per quello dobbiamo farli nel quotidiano. Lasciare la macchina un po' più distante, fare le scale se c'è l'ascensore, usare delle strategie per muoverci e raggiungere questi minuti. L'Ulssotto a Reaberica partecipa a questo progetto che vede coinvolte anche altre Uls ed è un progetto regionale. Sì, abbiamo la fortuna di avere l'Avvocato Enrico Specchio che insieme a noi ha fatto questo progetto per tutte le quattro Uls che partecipano. Oggi è venuto e il fatto che la regione sostenga, promuova questi progetti ci fa piacere perché non siamo soli a dire tutto questo. Ricordiamo terza edizione, in cantiere già quella dell'anno prossimo che probabilmente avrà anche dei percorsi a cavallo. Sì, quest'anno acqua perché siamo qua con la canoa, le zattere, biciclette, sempre dal comune di Grisignano di Zocco, a piedi e il prossimo anno speriamo che a cavallo. Grazie a tutti.